Presso l'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno i carabinieri della compagnia di Salerno hanno donato il sangue per aiutare l'Ael. In questo periodo infatti l'emergenza Covid è inciso sulla raccolta ematica. Più di 40 militari dell'arma che hanno dato il loro contributo. La collaborazione tra l'arma dei carabinieri dell'Ael di Salerno è l'ennesimo segnale di vicinanza e presenza dei militari nei confronti delle esigenze della comunità salernitana. È un gesto di quotidiana normalità, qualcosa che ci appartiene alla nostra vicinanza alla cittadinanza che al di là del dimostrare il nostro impegno anche in questo campo sociale come abbiamo già fatto in altre occasioni in questo difficile periodo speriamo che sia anche un po' da sprone per tutti per far capire che c'è effettivamente questa necessità che ci sono categorie di cittadini con patologie che effettivamente presentano necessità costante di supporto ematico quindi un bel gesto sicuramente ma che speriamo sia un segno di continuità nel tempo. Noi stiamo continuando seguendo quelle che sono le disposizioni statuali e regionali con la massima serenità ma allo stesso tempo il massimo rigore è necessario continuare secondo quello che ci viene imposto sia a livello centrale che locale per consentire al nostro contesto di riprendersi quanto prima. In questo senso anche aiutare il nostro ospedale che sicuramente ha evidenziato un notevole impegno nell'affrontare le difficoltà è un altro modo per ripartire nel migliore dei modi. Come AIL, Salerno, sezione Marco Tullimieri ci siamo sempre adoperati nella campagna Donazione Sanche anche quest'anno la campagna partirà il giorno 30-31 di questo mese facendo la donazione presso il centro sfusionale dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Nell'ottica di questa campagna hanno risposto in maniera egregia l'arma dei carabinieri e nella persona del Maggiore Castellano che ha dimostrato grande sensibilità al nostro appello. Quindi numerosi si sono recati al centro sfusionale per donare il sangue. In effetti quest'anno in particolare abbiamo avuto una carenza di sangue proprio perché l'emergenza Covid ha ridotto l'afflusso dei donatori. Quindi ancora di più rispetto agli altri anni facciamo un appello a tutti i cittadini che hanno sempre comunque risposto con grande sensibilità a poter donare il sangue. In effetti la campagna si chiama proprio Donna con il cuore. Quindi è un atto d'amore che i donatori effettuano il donare il sangue anche perché l'emergenza Covid non ha affermato purtroppo i malati oncomatologici di cui hanno bisogno di grandissime quantità di sangue. Per cui a noi sta molto a cuore questa classe di pazienti e pertanto da queste emittente facciamo un appello accorato a che siano numerosi i donatori di sangue. Ringraziamo nuovamente l'arma dei carabinieri, in particolare il comandante Castellano che con la sua sensibilità ha mostrato la sua vicinanza alla nostra associazione.